Non so cosa dovevamo comprare sul PlayStation Store, lì. Eh, ciao! Allora, c'era il taglio segnato, però fanno 3 altre, non nella mappa. Qui si fa per trovare questa. Allora, vedi? No, vedi? No, vedi! No, vedi! Non è me fa anche se, ciao. Non è felice. Allora, giocare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. la borsa, a tutti. 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 a tutti.